diciamo che queste sono le bevande che assaggerò, se avete qualche idea in mente di qualche prodotto da provare del supermercato scrivete qui sotto nei commenti così noi andiamo subito e buonasera a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale con un nuovo video siamo tornati finalmente con i prodotti del supermercato e da un botto che non lo portavamo, scusate l'assenza l'assenza ma ce ne eravamo un po' dimenticati facciamo così e poi abbiamo fatto altri format, comunque dobbiamo dire che ci è mancato perché ci manca quel brividino di assaggiare cose nuove ma oggi cosa andremo a provare? andremo a provare Gatorade, Powerade e Energate ma a differenza degli altri episodi in cui dovevamo indovinare il gusto tipo le patatine, se non l'avete visto andatevelo a vedere e le caramelle le caramelle, ma anche non parliamo, guarda le cioccolate abbiamo fatto tre episodi mi pare, se non erro questa volta dovremo capire che marca è quindi assaggio tre bevande diverse Powerade, Energate e Renegade e dovrò capire appunto qual è l'una e qual è l'altra sarà molto difficile ma adesso ve le facciamo vedere allora, qua abbiamo la Powerade blu blu qua la Gatorade blu blu poi blu non ce ne abbiamo più purtroppo sì, solo queste due, con la tarocca non c'è poi abbiamo la Powerade arancia Gatorade arancia Energate arancia la Powerade è arancia rossa la Gatorade lo stesso e l'Energate si boh, diciamo che queste sono le bevande che assaggerò allora, adesso lo bendiamo questo e faremo anche la prova del 9 e dell'8 allora, adesso io rovescerò tre di queste bibite nei tre bicchieri che adesso, 1, 2, 3 ok ragazzi, le abbiamo versate e adesso Franci le verrà fermo, te le do io vado? vai allora, non è quella blu perché sa di arancia ma non so se è arancia rossa o arancia credo rossa secondo me è arancia normale intanto, non è rossa ma per ora non so qual è se è quel sì, qual è devo vedere le altre adesso ti do quest'altra questa è un po' un po' un po' un po' più forte ma sono molto simili dammi l'ultima questa non sa di niente è di sapore però è molto buona questa sì, questa secondo me è Powerade è bravo la seconda è quella tarocca no no è la Gatorade ah la migliore è Powerade per ora ok ragazzi ci risiamo ho versato le bibite e adesso Franci le assaggerà e questa non è sicuramente arancia rossa quindi è quella blu quindi c'è lo scontro tra due tre Powerade che genere Gatorade Gatorade Powerade e l'altra è Renegade Gatorade Gatorade ok ragazzi ho versato le ultime bibite adesso vediamo questa secondo me è tosta probabilmente viene arancia rossa vabbè che stupido sì questa si sente arancia rossa banana no questa non mi piace questa forse è un pelo meglio questa secondo me è la Powerade quindi è più buona ancora peggio questa tarocca questa è Powerade no ma hai sbagliato ma sono uguali queste dell'arancia rossa sono uguali ah sì devo dire che sono abbastanza orgoglioso poteva andare meglio nel finale sì esatto quindi adesso tocca a lei vediamo se farà più o meno di quattro errori oppure se li farà uguali che numero è? tre io ne ho basso il naso sì non posso fare i video senza naso dai Franci dopo te lo ritorno fai i video senza naso no adesso me lo dai no dammelo no partiamo con questa eh certo Franci fai il pinto tonto eh sì sì nel mondo dei balocchi smettila di imitare Data arancia rossa brava questa è la Gatorade sì brava no no è strassi questa è la Powerade e quell'altra è la Energade primo round di errori brava adesso passiamo alle prossime arancia normale questa è la Powerade è quella con la rossa Gatorade Gatorade quindi la prima Energade brava quindi adesso andiamo con le ultime che sono quelle blu quelle blu questa è quella blu eh sì abbiamo detto la mia preferita che è la Powerade questa è la Gatorade brava zero errori per Danny bene ragazzi il video è finito abbiamo provato tutte queste bevande diteci anche voi se avete assaggiate tutte iscrivetevi al canale che il 64% di voi ah qualunque il 64% non è iscritto quindi dai iscrivetevi visto che non ce l'ospite lo dico io e attivate la campanella e condividete a tutti il video così tutti vedono quante bevande abbiamo provato e quanto cavolo siamo energizzanti adesso no no essendo la strada la prima volta devo dire pensavo un po' meglio dalle Powerade pensavo un pelo più dolci sono un po' un po' strane ma se dobbiamo decretare un vincitore sono io sì a parte tu la corona voglio il vincitore direi Powerade mi piace sai cosa l'hai detto tu prima? cosa? allora la Powerade non mi piace hai detto indicando questo adesso stai dicendo che la Powerade mi piace ok ho capito cosa intende io prima ho detto che la Powerade non era non mi piace molto ma io non intendo questa io dico queste bevande energetiche includendo tutto l'insieme non Powerade ma boh Powerade Renegade tutte queste robe qua non mi piacciono tanto perché perché non sono molto dolci sono un po' così un po' strane ma se dobbiamo decretare un vincitore oltre a questa barboncina io direi Powerade è la migliore se avete qualche idea in mente di qualche prodotto da provare del supermercato scrivete qui sotto nei commenti così noi andiamo subito cioè noi io che sono sempre io che va sul supermercato non c'è niente altro da dire e quindi il video finisce qua e ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti